Se il male sia qualcosa, sembra che il male sia qualcosa. Infatti ogni cosa creata è qualcosa. Ma il male è una cosa creata secondo quel versetto di Isaia, sono io, il Signore, che faccio la pace e creo il male. Dunque il male è qualcosa. Inoltre, entrambi i contrari sono qualcosa in natura, poiché i contrari appartengono allo stesso genere. Ora, il male è il contrario del bene, secondo quel versetto dell'Ecclesiastico, il male è contro il bene. Dunque il male è qualcosa. Ma diceva che il male, considerato in astratto, non è un contrario, bensì una privazione. Ora, un determinato male, considerato in concreto, è un contrario ed è qualcosa. In contrario. Nessuna cosa è il contrario di un'altra, secondo ciò in cui conviene con l'altra. Infatti il nero, in quanto colore, non è il contrario del bianco. Ora, il male conviene col bene secondo ciò che funge da sostrato dello stesso male. Dunque, secondo ciò, il male non è il contrario del bene, ma lo è secondo il fatto stesso che è male. Dunque il male, in quanto male, è qualcosa. Dunque il male, in quanto male, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra.